Ad una piazza San Pietro affollata di pellegrini per l'udienza generale, tra di loro anche una rappresentanza della prelatura dell'Opus Dei venuta dopo la beatificazione a Madrid di Monsignor de Portillo, Papa Francesco regala una profonda riflessione sui carismi nella Chiesa. Spiega che si tratta di una grazia, di un dono elargito da Dio Padre attraverso lo Spirito Santo, un regalo gratuito da mettere a servizio di tutti. Per rendere più chiaro il punto racconta di aver incontrato in aula Paolo VI prima dell'udienza l'Istituto Secolare Piccoli Apostoli della Carità alla nostra famiglia che si occupa di persone disabili. È proprio la cura per i più deboli il loro carisma. L'esperienza più bella, aggiunge il Papa, è scoprire quanti carismi diversi ci sono nella Chiesa. Nessun disagio, confusione, né invidia, divisione o gelosia perché sono i regali che Dio fa alla comunità cristiana per renderla unita e armoniosa. Grazie a tutti.